Ed eccomi! Buonasera a tutti! Come state? Come state? Io ho passato l'ultimo giorno qui al mare, proprio al mare. Stamattina avevo detto che non ci sarei andata perché questa notte ha fatto tempesta, ha piovuto stamattina, insomma. Ero convintissima di non andarci, avevo anche già ritirato tutta la roba del mare, la borsa, il telo, i costumi, tutto ritirato, anche le ciabatte. E mi volevo vedere un film perché ho visto che c'era nuvoloso, ho detto ma sì, me ne sto a casa, poi al limite faccio un sonnellino e vedo il film. Dopo un po' guardo fuori e c'era un sole, una bella giornata, ho detto ma sì, è l'ultimo giorno, ho tirato fuori ancora tutto. Sono andata al mare l'ultima volta, anche se non ho fatto bagni perché c'era il mare sporco, perché la tempesta comunque ha portato dei detriti che mi davano fastidio in ogni angolo dei miei tuffi passati. Ma è andata bene così, ho fatto tante docce, poi sono stata ancora un po' con mia sorella e sono riuscita anche poi quando sono entrata, o prima del solito, a salutare la proprietaria dei bagni che è una persona che conosco da tanto tempo, perché è originaria di Vigevano. Così ho espletato anche i saluti, perché ci tenevo comunque, è una signora comunque gentile, anche se sembra sempre un po' musona, però è una donna veramente gentile. Stasera invece me ne sono stata in albergo, mi sono presa un panino tornando a casa, ho mangiato il panino, me ne sono stata in albergo, mi sono vista The Others, qui col cellulare sul mio letto. Tra l'altro la stanza del mio albergo è un po' stile The Others, un po' stile retro, anche io ho queste tendone tutte chiuse e vi dirò, è un film che io adoro, è uno dei miei film preferiti. E quest'atmosfera un po' anni venti, con questi tendoni tutti chiusi, mi hanno dato quella suspense che ci vuole per vedere quel film, che non vedevo da tanto tempo e ho finito di vederlo mezz'oretta fa ed è sempre un piacere vederlo. Poi di uscire non avevo voglia perché ho sentito una bella rietta fresca e non avevo nessuna voglia di uscire anche se mi fossi messi i pantaloni, niente, non avevo voglia, me ne sono stata qui tranquilla. Ho fatto tutte le telefonate che dovevo fare, adesso mi sono sentita con Monica e ci sentiremo comunque anche domani perché io poi ho ancora tutta la mattina domani, no? Però poi verso le due, due e mezza me ne vado a piedi in stazione così mi faccio anche l'ultimo giro con calma, mi guardo le ultime vetrine che conosco a memoria comunque. E non ho voglia di prendere il taxi, prima di tutto costano un botto i taxi qui e poi mi piace così, mi piace l'idea come sono scesa dal treno e venuta a piedi, voglio tornare nello stesso modo. Così, almeno insomma non perdo tempo in stazione che è una stazione veramente deprimente, se parto alle due, due e mezza arrivo là giusta verso le tre e poi alle tre e mezzo il treno e sono contenta di tornare, veramente sono contenta. Avrò un sacco di lavatrici perché quest'anno è stato il primo anno che ho usato tutto quello che ho portato e ho fatto bene a portare meno roba perché tante cose le avevo escluse in fase di riempimento di trolley per renderlo più leggero che però in realtà leggero non è stato e non è. E ho usato tutto, 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 tutto gli altri anni non usavo tutto, qualcosa lo lasciavo sempre indietro, invece quest'anno sono contenta e l'anno prossimo se Dio vorrà, se tornerò farà la stessa cosa identica. Quindi meno cose si portano e meglio è al limite, anche perché qualcosa l'ho comprata qui, ho comprato due coppie costume alla fine, non ho comprato niente di che, ho comprato gli orecchini e i souvenir per i miei parenti barra amici. Quindi sono anche abbastanza stanchina perché comunque è stressante e quando arrivi all'ultimo giorno dici ce l'abbiamo fatta anche quest'anno e mi è andata bene perché quest'anno non mi è successo niente di sgriarrevole, di spiacevole, l'anno scorso il piede, una volta il telefono, insomma. Quest'anno è andato tutto bene, benissimo, vabbè che c'è ancora domani mattina, quindi io che sono un po' scaramantica non dovrei dirle queste cose. Ho conosciuto delle persone stupende quest'anno, ho conosciuto un uomo, un signore di 60 anni che ha il negozio di mobili proprio qua accanto al mio albergo e quando passavo di lì ci salutavamo, parlavamo e una sera stavo aspettando la mia amica che arrivava un po' in ritardo e sono scesa prima, sono stata un'ora e passa, lui è stato lì con me, gentilissimo, invece di chiudere abbiamo chiacchierato e un sacco di cose. Quindi la gentilezza fatta persona veramente, poi vabbè mi offriva sempre, lui aveva la macchinetta in negozio del caffè, mi offriva, io non bevo caffè però mi offriva il tè, mi offriva altre cose, insomma veramente un nuovo amico che sono contenta di aver conosciuto. Poi vabbè durante i giorni vedevo, ormai è diventato il mio amico Massi, anche lui è di Sanremo, è un bel ragazzo con i capelli lunghi fin qua, biondi, un po' selvaggio, sembra un po' Tarzan, carino e gentile anche lui. Stando nella mia stessa spiaggia, o veniva lui da me a chiacchierare, andavo io, facevamo il bagno insieme, mi offriva il gelato, mi offriva l'acqua, insomma io ricambiavo, ma lui lo conosco già da quattro anni che vengo qua. Però insomma ogni anno si rinforza l'amicizia, come si rinforza l'amicizia con Angela, la titolare dei bagni, che oggi mi ha commosta un po' perché mi ha detto mi dispiace che vai via, perché comunque è sempre un piacere parlare con te, perché comunque siamo della stessa città, mi ha fatto molto piacere. Poi ho conosciuto una coppia di Milano e ci siamo scambiati anche l'indirizzo e il numero di telefono perché mi ha detto quando avete voglia di farvi una gita fuori porta, magari un pranzo in una trattoria dalle mie parti, me lo dite così passiamo una giornata insieme. E loro entusiasti mi hanno detto di sì, quindi spero di vederli anche nel corso dell'anno. La mia amica che ho conosciuto l'anno scorso purtroppo l'ho vista una volta sola perché lei fa la spola fra qui e Novi Ligure perché lei la gestisce, anche lei è un negozio di illuminazione e quindi lei passa cinque giorni qui e due là, oppure il contrario. Io l'ho vista una volta sola però siamo stati insieme tutto il pomeriggio e mi ha fatto piacere, mi è dispiaciuto non vederla più spesso però non sempre si può fare tutto quello che ci si prospetta di fare. Anche la Monica l'anno scorso la vedevo tutti i giorni, quest'anno l'ho vista solo quattro volte ma è stato bello ugualmente, ci siamo raccontate tutto il nostro anno, lei ha tantissime novità, io le ho le mie. E quindi devo dire che sono un po' triste, come dicevo stamattina, un po' il magone perché comunque lasciare Sanremo per me è sempre un mezzo trauma, sinceramente. Però sono contenta di tornare perché ho voglia di vedere la mia casa, il mio uomo, la mia gattina, insomma, i miei amici, di ritornare alla quotidianità. Perché comunque venire qui è sempre un sogno che si avvera per me dopo che ho passato 13 anni chiusa in casa, convinta che il mare non l'avrei visto mai più. Invece è la quinta estate che passo qua e di nuovo come quelle che passavo qua da bambina, da ragazzina, insomma. Sono tornata un po' a casa ma adesso me ne torno nell'altra casa, ecco. Quindi tra poco spegnerò la luce perché sono anche abbastanza stanca, come vi ho detto. E ci vediamo, se avete voglia, ovviamente, domani mattina mentre sono a fare l'ultimo giro. O magari mentre me ne vado alla stazione. Così vi dico le news che non ci saranno, ovviamente, perché non ci saranno news questa notte. E basta, io ho l'ultima serata a Sanremo, è questa. Quindi fine delle vacanze, fine di questa bellissima esperienza anche quest'anno. Vi auguro una buona notte e un buon venerdì per domani, ovviamente. Ciao a tutti, tanto!